Stasera ho rivisto la Lazio Stasera ho rivisto la Lazio ragazzoli Buonasera ho rivisto la Lazio stasera Ve lo dico, stasera ho rivisto la Lazio Perché post lockdown Primi 30 minuti con l'Atalanta Poi la Lazio non era mai più scesa in campo O perlomeno non aveva mai dimostrato la sua forza Le sue armi migliori E le armi migliori scendono in campo E si mettono in mostra soprattutto nei gol Nei gol della Lazio c'è tutta la sua qualità C'è tutto il suo arciere C'è tutto il suo curriculum Fate un po' voi Snocciolate voi anche qualche cagatina Come sto facendo io in questo momento Ma sono serio e sincero Quando dico che stasera ho rivisto la Lazio E parliamo dei due gol Nel primo c'è il 33% del comparto tecnico della Lazio Una sventagliata di Sergei Milinkovic e Savic Nel secondo gol della Lazio Quello della rimonta definitiva C'è il 66% del comparto tecnico della Lazio La palla perfetta che passa sempre in modo impeccabile In mezzo ai due difensori del Cagliari Per chi? Per il solito Ciro Immobile Che da lì dopo aver fatto il movimento sgusciante La va a piazzare in porta Tutto banale, tutto semplice direte voi Dico io invece che quella è la Lazio Poi l'altro 1% Lo assegniamo un po' così ai restanti giocatori Ma nei gol c'è la Lazio Nei gol c'è la Lazio E dopo questa partita sfida ancora chiunque a dire che Immobile sia un mezzo attaccante Sfida ancora chiunque perché al di là dei gol Al di là del gol Appunto movimento E andatelo a vedere il solito movimento che fa sul gol Andate a vedere il movimento che fa nel primo tempo Sul cross di Gioni se non sbaglio Dove Cragno e di Cragno parleremo Fa un miracolo E poi andatelo a vedere nel secondo tempo Quando gli arriva una palla da parte di Selkei Lui la domestica con il difensore addosso La domestica è ingirata di sinistro Gli tirano alla sua divata Che poi ancora Cragno La pare e finisce sul palo Venitemi ancora a dire che Immobile sia un mezzo attaccante Venitemelo ancora a dire Venitemelo ancora a dire dopo questa partita qua Venitemelo ancora a dire Siete venuti? Venite vi sto aspettando Detto questo Vittoria meritata Perché poi nel primo tempo è stato anche Cioè proprio nel complesso Ma nel primo tempo è stata una partita Eh bella battagliera Bella arzila Con azioni da una parte e dall'altra Occasioni importanti per una squadra E anche per l'altra Gio Pedro Gli viene giustamente Annullato un gol Clamoroso Sontuoso Gesto tecnico Notevolissimo Pazzesco veramente Gio Pedro Che è nata Però punizione a due Non c'è il tocco E ragazzi Gol Purtroppo Da annullare Purtroppo per i Cagliaritani E poi Poi è uscita fuori la Lazio Tiro di Luiz Alberto Bellissimo Ripeto Un'altra Un'altra parata Sontuosa Di Cragno Dall'altra parte qualche occasione Una Clamorosa con Ciolito E qualcos'altro Mi è piaciuta Mi è piaciuta Ma poi Nella totalità Nell'interezza della gara È emerso È emerso un giocatore Su tutti da parte del Cagliari Ossia il portiere Che ha fatto delle robe Pauroso Almeno cinque interventi Importantissimi Io sto Sto Cragno Ne parlavano un po' tutti Però non lo so Sarà perché Eppure ne ho viste Di partite del Cagliari Però Cioè Non l'avevo mai notato Cioè Stasera Stasera Ho valutato Una roba Invece Che questo qua Fa la differenza Cioè Ha fatto Tre o quattro robe Incredibili Una parata Mostruosa Nel primo tempo Su Immobile Perché Se lo vede arrivata Tutta una volta E comunque È riflesso Sempre su Immobile Nel secondo tempo Un'altra parata Clamorosa Che la riesce a deviare Sul palo Anche sullo stesso Calcio d'angolo Di Dizio Alberto Che Pennellando Il pallone Lo mette dove vuole Con un tiro a giro Gli stava finendo in porta Forse lì C'è anche un errore Di piazzamento Ma comunque Gliela va a prendere Molti altri portieri A piazzamento errato Si sono visti scavalcare E subire golli In quell'occasione Quindi cranio su tutti Incredibile 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 Niente Dispiace per Cagliari Che è partito Ripeto Bene Però Molla Molla Mollato Mollato Nel secondo tempo Sarà che Poi è emerso Il valore Della Lazio Ma Cagliari Mollato E ragazzi Questo è La Lazio Complimenti Alla Lazio Che ritorna comunque In Champions Che era Obiettivo Stagionale Obiettivo raggiunto Buon Buon Per loro Buon Per gli aquilotti Va bene Fatemi sapere Cosa ne pensate voi Commentate Like Se vi va Perché no Ma proprio a tempo perso Iscrivetevi anche al canale Così potete magari ripassare Buona serata Anzi Buonanotte Suonatori